vai vai ok allora è partita ok perfetto rieccoci di nuovo buonasera a tutti e bentrovati a quello che è il penultimo appuntamento di questo viaggio un po' particolare e insomma un po' frammentato anche se vogliamo volutamente frammentato nel senso che non siamo mai andati ad approfondire un autore in particolare ma ci siamo soffermati sempre sulle opere che più o meno vanno ad insistere nel periodo del neorealismo e un periodo che in realtà a diciamo così anche delle delle precedenti dei precedenti che si costruiscono proprio con il tempo credo ci sia qualche problema di connessione mi sentite bene ah ok ok no perché vedevo un po' di immobilismo nelle facce quindi pensavo di avere qualche problema forse va bene no no si sentiva bene tranquillo vai avanti perfetto perfetto allora dicevo eh uno dei temi principali che è quello della guerra in realtà eh affonda delle radici proprio in quella che è la storia dell'Italia che viene affrontata da una grandissima parte di letteratura precedente agli anni del neorealismo e per quanto distante sia da un punto di vista temporale che da un punto di vista stilistico eh parliamo quindi di fare un salto all'indietro che va praticamente nell'ottocento nella seconda metà dell'ottocento per arrivare poi di nuovo al neorealismo è chiaro che rappresenta però quella parte di letteratura sulla quale i eh grandi autori neorealisti basano la loro formazione quindi se eh Calvino piuttosto che Levi piuttosto che eh Zangrandi o ancora Viganò eh scrivono determinate cose anche da un punto di vista storico quindi offrendo un'analisi eh da un punto di vista anche storico lo fanno basandosi anche sull'analisi di quella che è la ricerca dell'identità nazionale e eh il problema dell'identità nazionale è un problema eh che nasce da prima dell'unità d'Italia stessa e continua anche dopo l'unità eh d'Italia quella dell'Italia si può definire una storia eh di un equilibrio incerto con una identità piuttosto una ricerca di identità una ricerca di unità piuttosto travagliata che è stata eh in un certo senso filtrata anche dalla letteratura sia per quanto riguarda il campo della poesia e penso a Carducci a Ungaretti a Sereni che hanno spesso messo la guerra al centro dei loro versi e della loro lirica sia poi anche per quello che concerne la prosa e quindi per quello che riguarda appunto i grandi romanzi in questo eh ci viene in soccorso eh un grandissimo storico della letteratura un critico nonché eh una pietra miliare appunto della nostra eh storiografia letteraria che è Alberto Asorrosa il quale è stato più volte citato anche eh nei passati incontri in maniera più o meno sommessa e eh lui mh proprio racchiude in un periodo molto molto vasto che parte dal milleottocento quarantotto fino al millenovecento quarantacinque quindi parliamo praticamente di cento anni racchiude due filoni principali di letteratura che si occupa di guerra il filone che è cosiddetto istituzionale e quello invece ribelle per quanto riguarda il filone istituzionale noi abbiamo eh un'immagine di fondo rispetto a determinate opere che è quella della eh l'Italia contro tutti quindi il mito dell'Italia l'identità italiana le prerogative caratteriali degli italiani in generale appunto di quello che l'Italia ha rappresentato anche culturalmente non per forza in contrapposizione ma diciamo in sana competizione con il resto del mondo quindi un modo di fare un po' più celebrativo un po' più anche militaristico quello ribelle invece è quello che andrà a sfociare in una letteratura di risorgimento prima di resistenza poi ed ecco che quindi ci ricolleghiamo in una qualche maniera al eh neorealismo ai temi alle tematiche del neorealismo è chiaro comunque che la letteratura diventa uno strumento anche unificante soprattutto ehm dopo la eh formazione diciamo dell'Italia come stato così come lo conosciamo più o meno noi oggi diventa fondamentale anche ribadire questo concetto di unità e quindi la guerra diventa l'emblema del tormento della sofferenza e anche delle limitazioni che l'Italia ha dovuto subire prima di raggiungere la sospirata unità e ehm la letteratura eh ci aiuta a capire appunto come eh mettersi alle spalle quelle dinamiche eh della guerra possa poi di fatto garantire anche un'unità e quindi diciamo così una omogeneità eh nella mentalità. La storia quindi è eh al centro della trattazione letteraria non soltanto ehm con il neorealismo ma anche molto prima soltanto che ehm le testimonianze si infittiscono soprattutto con la seconda guerra mondiale quindi cercando di ehm come dire fare una sorta di riepilogo prima di andare oltre quindi andare nel secondo blocco degli autori che incrociamo. Quello che ho cercato di dire in questa introduzione è che il neorealismo basa le sue prerogative su una letteratura precedente che ha fatto da formazione agli autori neorealisti e che determinate tematiche soprattutto quelle cosiddette topiche quelle storiche no? Come la guerra come l'unità come l'identità sono state affrontate nei secoli con questi due filoni che convenzionalmente a Sorrosa ci eh offre quello convenzionale e quello ribelle e che hanno contribuito in maniera piuttosto decisiva proprio alla formazione di un concetto comunque di un sentore che è quello dell'unità nazionale. Il neorealismo di fatto rimette in dubbio determinati cartini soprattutto dopo gli accadimenti della guerra e riaffronta alcune di queste tematiche ovviamente alla luce dell'attualità. La seconda guerra mondiale è eh fondamentalmente il periodo in cui gli autori neorealisti prendono ispirazione tant'è che come abbiamo già detto anche in precedenza eh abbiamo proprio quest'urgenza no? Da parte di determinati autori di comunicare le proprie impressioni vissute in prima persona. Questo è quanto di più umano possibile. Se a voi ad esempio capita di leggere un bel libro magari poi le impressioni no? Le emozioni che questo bel libro vi ha suscitato può venire spontaneo metterle su carta magari fissarle in qualche maniera anche semplicemente condividerle con un interlocutore no? Dire eh al proprio amico al proprio amica al proprio parente ho letto questo libro mi ha proprio colpito. Chiaramente siamo in un ambito molto ridotto nel caso di una guerra che poi persone impegnate i drammi in primissima persona l'urgenza diventa ancora più impellente ma la letteratura eh non si è chiaramente fermata neanche durante la guerra quindi dopo la seconda guerra mondiale c'è chi ha scritto direttamente del dopo comunque della guerra già con l'ottica successiva vedasi romanzi resistenziali è chiaro che chi si occupa della guerra in un'ottica di resistenza lo fa ehm con diciamo così uno spirito propositivo verso il futuro la resistenza rappresentava comunque una comunanza di obiettivi una comunanza di auspici per il futuro e anche di domande da porre per la società del futuro invece altri eh autori hanno descritto proprio quell'incertezza cioè non sono andati oltre a livello temporale ma sono rimasti a descrivere quell'incertezza e rappresentano comunque un pezzo del puzzle dell'incastro eh in questa enorme eh e magmatica esperienza di letteratura novecentesca rispetto al neorealismo uno di questi è Giuseppe Berto allora Giuseppe Berto è molto molto noto per alcuni romanzi un po' meno forse per altri di tipo eh più eh politico però Giuseppe Berto è eh prima di tutto un uomo che ha partecipato volontariamente alla causa fascista quindi è diciamo così un intellettuale ben diverso no rispetto alla schiera degli scrittori neorealisti che più o meno abbiamo collocato tutti nella schiera antifascista e eh scrive un romanzo molto importante molto diciamo così eh emblematico di quello che è un altro punto di vista cioè guerra in camicia nera con guerra in camicia nera lo dice già il titolo eh c'è la testimonianza di eh una persona che ha aderito ai dettami o meglio alle convinzioni del regime e lo ha fatto eh vivendo in prima persona poi anche la delusione eh di come dire aver investito dalla parte sbagliata quello che più eh colpisce di guerra in camicia nera è la percezione da un punto di vista intellettuale quindi Berto lo fa anche da un punto di vista diciamo sì intellettuale la percezione di eh assistere ad una crescente parte frattura tra eh la patria tra il concetto di patria tanto eh mitizzato sbandierato comunque eh preso come il concetto preponderante e il paese reale ecco questo è un tema che noi oggi sentiamo spesso anche nella politica no nel senso che eh molto spesso chi è all'opposizione accusa di chi è in maggioranza di aver dimenticato i bisogni del paese reale o magari di andare in giro per talk a raccontare delle realtà e delle eh evidenze che sono ben lontane dal paese reale ecco è quello che Giuseppe Berto in qualche maniera mette in luce nel punto di vista interno al fascismo con guerra in camicia nera cioè esistono la patria e il regime eh da un punto di vista puramente teorico ma esiste anche un paese reale e esiste anche una schiera di sostenitori del regime che ha questo sentore diciamo così di una frattura di una lacerazione sempre più eh ineluttabile tra chi governa in questo caso parliamo poi di un regime dittatoriale quindi è comunque un tipo di governo che non ammette repliche che non ammette confronto e chi il paese lo vive e allora quest'idea eh che serpeggiava anche tra i soldati eh appartenenti appunto alle milizie fasciste era quella di una sconfitta imminente ci dice Giuseppe Berto partecipava partecipavamo alla guerra convinti che fosse ovvio che l'avremmo persa convinti che per come ehm andavano le cose insomma noi non avremmo potuto far altro che perdere quindi c'era questo senso di sconfitta molto molto forte e Giuseppe Berto è fondamentale da questo punto di vista perché è quello che forse meglio descrive il dramma di una tragedia storica condivisa di una tragedia storica collettiva che eh affondava le radici proprio in una retorica ormai svuotata da qualunque contatto con la realtà o con il paese reale e non parliamoci dice bene Berto soltanto de insomma delle problematiche logistico militari del fatto che andassimo un po' allo sbaraio con dei soldati che si recavano al fronte non so con le armi che non sparavano con le scarpe rotte con eh delle munizioni o dei cibi insufficienti quindi non era solo l'impreparazione alla battaglia o scusatemi i limiti logistico militari ma era proprio una un sentimento no un sentimento collettivo per cui non poteva esserci altro esito che la caduta eh di quelli che erano i valori e i fondamenti del regime ed è molto interessante perché mh io insomma vorrei essere molto obiettivo no eh anche nella nella trasmissione eh insomma della letteratura e non mi piace poi connotare politicamente in un senso o nell'altro eh quelli che sono gli scritti però è chiaro che la letteratura dei vinti o dei vincenti è diversa no quelli i vinti chiaramente hanno un'ottica ehm che 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 media no che equilibra rispetto alle loro aspettative alla loro dignità alle loro speranze anche i loro rimpianti i vincenti i vincitori hanno comunque come dire hanno avuto ragione dalla storia quindi partono comunque da una posizione privilegiata ed è molto importante eh la lettura emotiva che appunto Berto ci dona quando mh come dire non si sofferma anche su quelle che erano le critiche principalmente mosse eh dagli oppositori dalla resistenza cioè il problema fondamentale era proprio questa scarsa convinzione anche da parte eh dei soldati che combattevano per una certa battaglia e questo sentimento della sconfitta che non è soltanto un pessimismo di guerra ma è un qualcosa di più radicato che proviene poi da tante consapevolezze è lo stesso che troviamo in Mario in Mario Tobbino nel suo romanzo deserto quindi andiamo a vedere adesso a toccare sempre in maniera molto eh purtroppo ahimè rapida perché anche di Tobbino ci sarebbe veramente tanto insomma da esplorare e tra l'altro Tobbino ha affrontato faccio una piccola divagazione anche il tema eh della malattia mentale no e l'ha fatto eh con una carica eh piuttosto rivoluzionaria comunque Tobbino in deserto riprende eh nella figura degli alpini che ehm avevano un posto d'onore perché lottavano in maniera in maniera molto convinta in maniera molto eh appunto battagliera e anche dentro questi alpini dentro queste organizzazioni di alpini c'era un clima che lui definisce di epica percezione del disastro quindi c'era sia l'epica quindi un qualcosa che rimanda a una serie di idee di concetti il campo semantico della battaglia oggi dire che una persona una situazione epica significa comunque dire un qualcosa che ci rimanda a un certo trionfalismo no e eh invece a essere epica era la percezione del disastro quindi era talmente evidente dice in questo caso Tobbino rifacendosi anche quindi rimettendosi in linea con Giuseppe Berto eh era talmente evidente che non saremmo andati da nessuna parte che come dire andiamo applauditi per aver giocato comunque per averci comunque provato e eh in questo senso ci ricolleghiamo anche al discorso introduttivo e Tobbino ci avvicina un altro concetto che è il mito del ritorno mito del ritorno inteso come il ritorno della gloria cioè comunque nell'orgoglio italiano e consideriamo che appunto nell'ottica soprattutto eh di regime era fondamentale l'orgoglio nazionale patriottico insomma lo si può chiamare come meglio si crede e nella in questa eh in questo sentore di orgoglio nazionale di orgoglio italiano c'era comunque questa idea se vogliamo romantica che prima o poi eh appunto ci sarebbe stato un riscatto di quello che l'Italia rappresenta nonostante il disastro e il fallimento di un regime che pure aveva come dire eh esasperato no alla massima potenza determinati valori e quindi anche determinate idee e eh quindi Tobbino diciamo che la guarda già un po' più in prospettiva rispetto a Giuseppe Berto Giuseppe Berto ci parla di una guerra in camicia nera quindi di una guerra in cui fondamentalmente si era già connotati dall'abbigliamento e non si poteva quindi chiaramente pensare a nulla di eh diverso riguardo agli esiti negativi della faccenda Tobbino invece pur insomma condividendo con il tra virgolette collega la eh sensazione di sconfitta eh si salva diciamo così con eh la nostalgia del ritorno la nostalgia di questo mito del ritorno per cui comunque è vero che adesso siamo eh come dire caratterizzati da incompetenza da disorganizzazione da cinismo eccetera però le nostre doti le doti del nostro popolo quelle dell'altruismo della generosità che per inciso non bastano questo insomma ce lo dice in maniera molto chiara non basta essere altruisti e generosi per vincere una guerra però queste doti comunque ci salveranno e rappresenteranno in qualche maniera eh come dire la base per un futuro ritorno alla gloria quindi patria vedete che le parole no le parole chiave di questi romanzi patria eh storia guerra eccetera sono parole che poi più o meno eh verranno semplicemente eh eh riempite di nuovi significati dal neorealismo il neorealismo passerà dal concetto di patria al concetto chiaramente di repubblica quindi di organizzazione dello stato eccetera si passerà da un concetto di guerra eh a un concetto di analisi anche introspettiva della guerra e di quello che la guerra ha creato e da questi termini che hanno caratterizzato il ventennio precedente al neorealismo nasceranno poi le riflessioni le famose domande no che abbiamo detto gli scrittori neorealisti si pongono per la società del futuro e che eh condivideranno con i propri lettori Giuseppe Berto Mario Dobbino non faccio una questione di genere come ho sempre detto ma c'è anche un'altra grande scrittrice che ehm entra in questo dibattito che Elsa Morante Elsa Morante scrive la storia è eh un romanzo che dovrei avere tra l'altro qui dietro ma insomma vabbè non lo cerco perché ho rimesso a posto recentemente quindi ho perso la cognizione ottica sul posizionamento dei libri in ogni caso eh il concetto di eh della storia di Elsa Morante è eh l'ottica diciamo così della sofferenza nel senso che eh qui andiamo un po' oltre anche quello che avevano fatto magari eh Renata Viganò e altri altri autrici eh che appartengono al neorealismo e cioè si parte da una consapevolezza molto amara e cioè che comunque chi ci rimette nella guerra oggi diremo che è ovvio ma insomma eh viene testimoniato e descritto nel romanzo è la popolazione che la guerra non solo non l'ha voluta ma magari non riesce neanche a capirla non riesce neanche a capire quali siano gli interessi no? Quindi i personaggi Ida e Useppe sono i due personaggi della storia sono eh persone comuni persone povere persone che appartengono ai cedi più bassi no? Della eh ai cedi più bassi della diciamo della della società sono persone che rappresentano proprio un po' tutto il popolo sofferente afflitto eh che rifugia in qualche maniera l'eroismo anche dei vincitori c'è un popolo che non si lascia entusiasmare né dai proclami dei vincitori né dalle rivendicazioni dei vinti no? Quindi un popolo equidistante perché mai chiamato in causa perché mai coinvolto e quindi fondamentalmente incapace di prendere parte e alla vittoria e alla sconfitta. In questo eh retroterra diciamo così di eh letteratura che si occupa di guerra e in generale si occupa anche di eh lessico bellico e di combattimento ci sta bene ma insomma lo citiamo solamente per completezza di eh informazione tra virgolette eh Dino Buzzati con il suo deserto dei tartari quello è il caso di una testimonianza inverosimile realizzabile di una guerra che sospende i fatti no? Che sospende anche il giudizio e questo è eh fondamentalmente eh un altro lato della medaglia che ci avvia a quello che sarà poi il cambio dello spirito pubblico che ci avvicina al neorealismo. È fondamentale conoscere queste testimonianze per capire il neorealismo prima di tutto perché questi autori poi opereranno anche in contemporanea gli autori neorealisti no? Quindi eh è sempre sbagliato eh ma è difficile poi da restituire come quadro è sempre sbagliato pensare alla letteratura come un qualcosa che si evolve per periodi definiti cioè la cosa bella della letteratura e la contemporaneità anche della produzione letteraria degli scrittori e quindi noi molte volte un po' per obbligo un po' per ehm convenzione per necessità perché non abbiamo nove ore al giorno da dedicare alla letteratura siamo costretti diciamo così a settorializzare sia determinati argomenti che determinati autori come se appartenessero a una specie di ehm di club privato e eh che non comunica con gli altri invece in realtà ehm ci tenevo particolarmente a presentare queste altre opere relative ad autori che finora non abbiamo citato e che chiaramente non vengono inseriti nella schiera dei neorealisti proprio per dare questa idea di quello che simultaneamente sulla scena editoriale quindi anche eh nel pubblico dei lettori italiani eccetera si andava a ehm a proporre si andava a diffondere anche poi magari con ehm i rispettivi dibattiti che ne conseguivano e ehm detto questo passiamo dal blocco sempre da prendere con le pinze della guerra vissuta dall'interno e contemporaneamente alla scrittura a quello che succede in avvicinamento al neorealismo c'è una cosa che succede in maniera convenzionale tra la prima guerra tra la seconda guerra mondiale e l'avvento appunto poi del periodo neorealista e cioè il fatto che l'Italia e quindi anche eh diciamo così gli scrittori e gli esponenti della letteratura è costretta a fare una scelta nel senso che la scelta può essere quella tra la repubblica e la monarchia ma tra il passato e il presente tra un tipo di ordinamento e un altro ma in generale eh emerge diciamo così sulla scena letteraria questa figura del soldato italiano che è deportato costretto in qualche maniera ad adempiere i propri doveri fugge o comunque si ribella opera una scelta e in generale quello che è un tipico costume italiano ci ammonisce insomma più di qualche critico di questo periodo che è quello della non scelta ecco cioè tra una cosa e l'altra preferisco nessuna delle due tra il bianco e il nero preferisco evitare di scegliere qui invece c'è come dire un obbligo alla scelta è come se adesso il popolo italiano fosse in qualche maniera eh costretto anche nella frenesia generale degli eventi della storia eccetera fosse costretto a eh prendere una posizione e farlo anche alla svelta farlo anche in una maniera piuttosto netta ancora la letteratura ci offre eh degli esempi per esempio eh primavera di bellezza Fenoglio Beppe Fenoglio un romanzo dove eh praticamente si sviluppa una trama intorno a un intento omicida eh da parte di un soldato rientrato dalla guerra che rincontra un vecchio maresciallo fascista anche questa è una scelta tra virgolette estrema in questo caso ma eh si va appunto verso un'azione concitata si va verso una eh non accettazione passiva dei fatti e quindi verso una eh ricerca della propria contribuzione no al mutamento dell'ordine della storia ognuno lo fa chiaramente quelli che sono i suoi eh i suoi ambiti e le sue prerogative e poi ehm c'è un'altra testimonianza molto eh importante forse poco conosciuta non so quanti di voi hanno sentito parlare di Gioseri Manelli eh un autore insomma molto poco antologizzato no? E eh Gioseri Manelli era eh un po' sulla stregua di Giuseppe Berto un appartenente alle camice nere quindi un convinto sostenitore del fascismo che scrive eh tiro al piccione tiro al piccione è un romanzo che racconta la sua esperienza di eh soldato e eh si autodefinisce poi chiaramente riflettendo a posteriori come una sorta di giovane sbandato eh che eh era inserito con tanta convinzione per carità con tanta eh anche voglia di fare di emergere nelle brigate nere ma si trovava poi suo malgrado esposto alle fucilate dei cecchini che miravano all'aquila del berretto allora l'aquila del berretto un simbolo insomma eh militare eccetera che veniva puntato come fosse un piccione da qui la degradazione no tra l'aquila e il piccione insomma c'è una certa eh come dire la dignità del piccione per quanto da salvaguardare onorevole non è di certo mitizzata come quella dell'aquila e eh Gioseri Manelli appunto eh si sentiva come il bersaglio di questo tiro al piccione che da sbandato all'interno di queste brigate nere eh doveva subire lui ci dice ci riporta un messaggio piuttosto eh anche se vogliamo ingemo ma allo stesso tempo insomma significativo dice non so per cosa combattevo ma so che ho perso e questo l'ho capito bene l'ho capito proprio dal fatto che insomma eh quella che doveva essere il mio stemma quindi qualcosa che mi donava prestigio è stato invece un qualcosa di ridicolizzato e eh preso a bersaglio appunto ci si avvicina sempre di più all'analisi delle conseguenze dello scontro bellico e eh ci avviciniamo quindi la la nostra marcia di avvicinamento arriva anche di nuovo a un autore neorealista che è Italo Calvino qualcuno dirà tutta sta cosa per arrivare a Italo Calvino sì tutta questa cosa per arrivare a Italo Calvino perché Italo Calvino che era un giovane eh intellettuale estremamente insomma attento alle testimonianze a lui precedenti oltre ad affrontare tutta questa letteratura e tutte le tematiche di questa letteratura e è forse l'intellettuale più riflessivo tra quelli neorealisti e eh perché perché in fondo no eh si rende conto quasi forse un po' prima degli altri che ehm la sua verità andava un po' sedimentata no andava un po' lasciata decantare ehm c'è una canzone ehm una canzone eh una poesia un testo molto eh famoso che credo poi insomma sia eh ben noto che è oltre il ponte no scritto da Italo Calvino in cui lui eh ripercorre l'esperienza resistenziale e la spiega con parole molto semplici ma anche molto significative cioè lui dice avevamo tutto il bene oltre il ponte non la sto dicendo in ordine avevamo tutto il male di fronte quindi chiaramente eh tutto quello tutti quelli che erano i nemici il regime eccetera era tutto il male lo avevamo di fronte tutto il bene era oltre il ponte quindi bastava superare questo ponte per raggiungere eh per raggiungere diciamo così una società più giusta più civile più equa io insomma penso che sia una canzone no tutto il bene avevamo di fronte tutto il male avevamo nel cuore a vent'anni la vita oltre il ponte oltre il ponte comincia l'amore lo dico in maniera un po' a filastrocca e in realtà poi il passaggio di questo ponte per Italo Calvino sarà molto difficile molto doloroso e eh gli imporrà una serie di riflessioni che pensate teorizza solamente o comunque per una delle prime volte nel mila novecentosessanta quindi la guerra è finita da eh da anni c'è il sentiero dei nidi di ragno ci sono le esperienze letterarie ma eh in un'intervista tra l'altro ha un poeta molto caro alla città di Cori che Elio Filippo accrocca e ehm Calvino verbalizza diciamo così la sua riservatezza sul tema del neorealismo e della resistenza e sul tema dell'identità sul tema ehm della sua partecipazione fisica ed emotiva alle battaglie resistenziali alla guerra e soprattutto sui passaggi che lui ha dovuto in un certo modo elaborare per raggiungere una determinata consapevolezza quindi Calvino in un certo senso ritiene la resistenza come un qualcosa di importante senz'altro ma di eh bisogno di insomma come di che bisognava eh mettere al centro di una riflessione più ampia che garantisse come dire una descrizione a trecentosessanta gradi descrizione che viene sia dallo studio del contesto precedente alla resistenza sia degli altri punti di vista quali sono gli altri punti di vista Mario Tobino Elsa Morante e ce l'ho qui insomma segnati Maggiose Rimanelli Beppe Fenoglio tutti quelli che in qualche maniera abbiamo analizzato oggi quindi una logica c'era e non stavo sparando date e eh titoli di romanzi a a vuoto è chiaro che Calvino diventa poi eh con il tempo uno dei riferimenti più importanti anche per l'analisi della resistenza proprio grazie alla sua riservatezza e andando a vedere la sua biografia eh quindi quella che è stata la sua esperienza diretta lui ha partecipato a tantissime brigate e è stato catturato è riuscito a fuggire dalla deportazione solamente perché eh il il camion si è rotto si è fermato e quindi i soldati sono riusciti a fuggire lui non si poteva neanche troppo esporre perché aveva paura della rappresaglia eh nei confronti dei suoi genitori quindi ovviamente cercava di proteggere no anche il nucleo familiare l'ambiente della famiglia il suo impegno politico parte ehm proprio da quelle esperienze del del fai da te partigiano dell'esercito scalzo dell'autodeterminazione quindi abbiamo in un certo senso una difficoltà no anche a eh mettere in ordine i perni della poetica eh calviniana se volessimo elencare insomma le prerogative sarebbero troppe e e ognuna poi andrebbe a sua volta approfondita e quello che eh mi voglio insomma eh premurare di dirvi e con questo poi andiamo verso la chiusura è il concetto ehm di Calvino relativo al cosiddetto romanzo a fresco innanzitutto è una bellissima definizione da un punto di vista critico e che un po' poi rispecchi anche il percorso che abbiamo fatto cioè noi abbiamo sempre detto che eh lavorare su più autori simultaneamente contestualizzandoli in una ehm in un periodo storico della letteratura che non è comunque fine a se stesso che non è comunque ehm in mancata comunicazione col primo e col dopo è molto complicato anche ehm spiegare il concetto di romanzo a fresco in Calvino è un qualcosa che ci può aiutare a ricollegare tutto quello che abbiamo detto e romanzo a fresco è eh fondamentalmente basato su una convinzione e cioè che ogni evento narrato ogni storia narrata è in realtà una parte di una storia più grande e di una storia generale che significa che ogni pezzettino della narrazione in realtà non bisogna mai leggerlo come se fosse iniziato e finito lì è un po' ehm come dire qualcosa che rischia di divagare troppo verso la filosofia no come dire ogni cosa è legata al suo prima e al suo dopo però Calvino in realtà con questa definizione di romanzo a fresco eh ci fa capire ehm qual è la sua idea di letteratura cioè un'idea di una letteratura che può essere in qualsiasi forma può essere nella forma del romanzo breve può essere nella forma del racconto può essere nella forma del favolistico no pensiamo alle cosmicomiche ecco le cosmicomiche sembrano scritte in tempi di pandemia visto che insomma molto spesso alcuni dei racconti si basano su credenze pseudoscientifiche eh sentite l'altro giorno al bar però tutto questo fa parte comunque di un di un più generale ehm affresco come negli affreschi no nel nei monumenti noi abbiamo diversi questo magari poi eh Sara di Luzio lo spiegherà insomma meglio e mi correggerà però come noi magari in una chiesa abbiamo una suddivisione degli affreschi che sono in comunicazione da loro ma che sono anche dei dettagli che meritano no di essere analizzati singolarmente così Calvino concepisce la sua letteratura così Calvino concepisce la sua letteratura eh al servizio di una storia quindi è eh bello arrivare insomma a Calvino al neorealismo senza per forza citare il sentiero dei niti di ragno o altre opere dopo aver attraversato le esperienze narrative di eh Fenoglio, Rimanelli, Buzzati eccetera proprio perché il romanzo affresco di Calvino può essere esportato o comunque riadattato anche alla storia della letteratura cioè leggerli tutti per collocarli poi in un punticino preciso e avere un'idea della vastità dei temi affrontati nel novecento italiano in generale di come poi il neorealismo sia effettivamente diventato quello che è anche allargandosi chiaramente ad altre branche come il cinema come insomma eh abbiamo più volte detto e non soltanto sulle opere tratte dai dai romanzi quindi Calvino rimane un maestro rimane un come dire un precursore di tutto rimane un qualcosa che eh probabilmente non sarà mai più eguagliato e eh rimane anche forse quello più cauto no nella nella definizione di neorealismo di resistenza di guerra perché eh ha questa capacità di selezionare le cose valorizzarle anche a livello narrativo ma poi non pensare di aver esaurito quel tema ma anzi di pensare che quel tema vada messo in relazione ad un ordine più generale un ordine che magari può può anche eh può anche come dire avere l'ausilio di altre testimonianze eh di tipo letterario e un'ultima cosa sempre per concludere e rimanere insomma nel nel tempo previsto il tema dell'identità il tema dell'identificazione viene chiaramente eh rielaborato anche da Italo Calvino noi abbiamo iniziato questa chiacchierata eh piuttosto anche difficile devo dire da un punto di vista del tempo perché dobbiamo condensare in pochissimo spazio tanti contenuti ma abbiamo iniziato dicendo che il problema della travagliata storia d'Italia è stata la ricerca dell'identità e eh in un certo senso la letteratura ha assunto quasi per forza di cose il ruolo di un elemento unificante di un elemento unificatrice o comunque di qualcosa che contribuisse alla creazione di quest'identità Calvino eh per spiegare eh il problema o meglio per riflettere sul problema dell'identità si rifà quasi ai rudimenti della filosofia greca quindi ritorna molto molto indietro e comincia a parlare di resistenza dopo aver diciamo così eh preteso nelle sue narrazioni che l'uomo non può mai considerarsi staccato dal resto della natura quindi fa condensare l'eredità laica l'antipsicologismo la resistenza stessa in questo postulato piuttosto eh anche semplice anche vago poi va contestualizzato e cioè la correlazione imprescindibile tra l'uomo e la natura una volta acquisita questa correlazione si può cominciare a parlare anche degli effetti che l'azione dell'uomo ha sulla natura sulla storia sui fatti e questa cosa veramente concludo noi l'abbiamo affrontata parlando di primo levi no parlando di primo levi e sull'interrogazione della natura umana in relazione alla tragedia dei lager no alla polemica considerate se questo è un uomo che abbiamo tradotto con considerate se questo è umano ecco quindi la riflessione di primo levi sull'umanità la riflessione di primo levi sul cosa significa essere umano torna anche in calvino con questa richiesta diciamo accorata che lui fa i lettori affinché non sleghino mai l'uomo dal proprio contesto dalla propria natura detto questo concludiamo chiaramente se ci sono domande approfondiamo è chiaro che insomma mi rendo conto di aver fatto forse troppi nomi in poco tempo e quindi di aver creato magari spero non confusione ma curiosità disordinata quello sì sarei anche contento e perché insomma effettivamente ci sono dei libri che già dai titoli no meritano poi di essere approfonditi e ripeto è importante non lavorare per periodi storici stagni quindi con questa finestra che di doveva introdurci al neorealismo secondo me abbiamo agganciato un altro pezzo rispetto al percorso intrapreso e poi a febbraio faremo le conclusioni grazie grazie a te rocco veramente bello grazie ci sono interventi osservazioni critiche insulti niente è molto interessante complesso rimbambito tutti apposta per non avere domande anche proprio prendi l'uditorio grazie almeno guarda veramente senti una piccola curiosità mia personale vorrei sapere se anche rocco della curte è affascinato come me dallo stretto rapporto tra il movimento letterario del neorealismo e il movimento del cinema cinematografico del neorealismo sì sì assolutamente sì anzi è che qui poi dopo mi costringe a parlare di bassani e quindi poi dopo facciamo altre tre ore però è chiaro che no no però l'ho apprezzato proprio col fatto che bassani da critico anche cinematografico in qualche maniera ha affrontato il neorealismo da tutti e due i punti di vista no quindi si è preoccupato di esprimerlo sia dalla letteratura che dal cinema e la cosa mi è da lì che mi ha cominciato a interessare c'è rapina che mi ha detto qualcosa ma non l'ho sentita ci siamo incrociati con Antonio non ho ovviamente nulla da aggiungere alla tua lezione insomma che data la mia scarsa preparazione in materia però no soltanto una riflessione molto personale che mi veniva nel momento in cui parlavi di Berto e poi di di Dobbino cioè praticamente io mi sento molto Berto andando ai giorni nostri nel senso che eh lui ehm diciamo non credeva più nei valori della eh del del fascismo è come se avesse fatto un errore nel nel farne parte e che non si sarebbe andata nessuna parte purtroppo è la stessa cosa che penso io della sinistra di oggi cioè no sono sempre stata di sinistra solo che prima ero convinta ehm diciamo della di quello che avrebbe potuto fare la sinistra e invece in questi ultimi anni e soprattutto in questo periodo i miei dubbi vengono ehm vengono meno cioè vengono cioè vengono avanti praticamente quindi mi sento molto Berto mi chiedo da che parte stiamo andando? Bella domanda ma Rocco non ti vuoi rispondere no no però cioè io pensavo ecco a Berto e ai tuoi impi di oggi semplicemente una riflessione personale è uno spunto poi Pina fa sempre riflessioni che a me piacciono perché appunto poi lei interiorizza molto però è vero perché poi insomma al di là dello spirito è la famosa caduta delle illusioni no che poi adesso noi l'abbiamo come dire politicizzata col fatto di Berto però poi è ehm è in tantissima letteratura no la 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 caduta degli dei la caduta delle illusioni e insomma magari si potesse rispondere insomma però è vero insomma ma questo è è accaduto anche a tantissimi autori che poi hanno vissuto sia eh la resistenza e poi hanno vissuto già gli anni settanta ottanta dove chiaramente non stavamo nelle condizioni degli anni duemila dieci duemila venti c'era ancora come dire forse una sincera adesione no a certi movimenti adesso eh la cosa più brutta è vedere come la sfacciataggine di determinate dinamiche o comunque la rassegnazione eh che diventa quasi l'unica via di fuga di fronte a certe dinamiche e prima invece forse c'era una spensieratezza diversa che oggi ci è stata in qualche maniera tolta e e e su questo purtroppo io non 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 voglio dare la risposta a Pina però io credo che la televisione abbia fatto tantissimo eh in male di questo perché su certe cose ha ha veramente fatto come come la letteratura era un elemento unificante per la ricerca dell'identità sia prima che dopo il neorealismo la televisione negli ultimi trent'anni è diventata in qualche maniera eh l'elemento eh come dire dirottante ecco di determinati messaggi e talmente forte e talmente però c'è di base di fondo una sinistra che non porta avanti delle bandiere forti comunque quindi non è soltanto la televisione nei confronti delle persone magari che però quando Zingaretti è andato dalla D'Urso abbiamo celebrato proprio il top del top Tiziana Tiziana prego ah sì no io volevo tornare un attimo all'affresco a quel termine che hai usato eh quando parlavi di di Italo Calvino eccetera e insistere su questa parola molto usurata però la storia siamo noi no perché mentre ne parlavi mi veniva in mente la mia lettura molto giovanile del libro dell'amorante no del libro dell'amorante che non tutti affrontavano visto le dimensioni eccetera ma perché perché c'è una corrispondenza perfetta e di estremo aiuto e che forse la dico lì la butto lì ci rende molto forti rispetto a questa situazione attuale no cioè la corrispondenza della letteratura con la storia di tutti e con le memorie e i racconti delle persone che hanno vissuto nei periodi che tu hai raccontato cioè quindi ehm questa cosa mi ha molto colpito rispetto all'unità l'unità no cioè perché in fondo stiamo sopravvivendo malamente per carità però stiamo sopravvivendo e la le problematiche di Pina sono le problematiche di molti di noi no quindi cioè questa cosa ce la chiediamo allora secondo me c'è da recuperare questa forza e queste corrispondenze e ce ne sono moltissime eh io sono una che conserva dei tu parlavi del che erano elementi c'erano elementi celebrativi no eh io sono in possesso del già ve l'avevo detto mi pare del libro di sesta elementare di mio nonno che è praticamente dove lì solo quel libro potrebbe rappresentare una fonte immensa no di di corrispondenza ecco quindi per tornare a questo è vero la storia siamo noi ma siamo noi con la letteratura con i nostri racconti cioè che punto non è un parlare in maniera qualunque è la verità a che serve la letteratura serve anche a confermare questo cammino ecco capito il problema il problema diciamo così delle corrispondenze e il problema di Pina se può adesso chiamare il problema di Pina però in realtà sai sia nella letteratura come anche magari poi nella politica però in generale il popolo non cerca neanche identificazione non è che si va a cercare una persona o comunque un libro in cui identificarsi spesso cerca interpretazione cioè cerca qualcuno che interpreti anche con le dovute differenze anche con un punto di vista estremamente diverso il più banale una un lettore uomo che trova diciamo le proprie eh necessità interpretate da un'autrice donna o viceversa no si va alla ricerca di qualcuno che riesca a interpretare eh quello che noi sentiamo quello che noi proviamo e quello che noi percepiamo ecco anche il cinema questi autori certo il cinema il cinema insomma poi andremo in tutte le arti anche le arti visive perché insomma anche anche la pittura a questo punto insomma tutto tutta l'arte mettiamola sotto il tetto dell'arte che tutto comprende teatro insomma senza lasciare torto a nessuno il problema è che molto spesso ecco si soffre di una mancanza di interpreti non non nel senso di eh non nel senso di chi scrive chi legge eccetera ma proprio non ci si sente interpretati a sufficienza in un settore o nell'altro allora questo poi porta a una sorta di smarrimento e il ruolo guida della letteratura negli anni passati è stato proprio questo e poi con le dovute limitazioni e con i dovuti difetti questo è chiaro certo benissimo allora Lamberto a te la parola volevo dire una cosa appena che andò sentivo così a disagio per la per quella che possiamo definire una cosa che oramai è più che disagio una delusione una preoccupazione anche per il futuro del nostro paese cercavo di dare un cercavo di dare eh un filruce no è chiaro che la scomparsa delle classi sociali perché questo di questo stiamo parlando e la ricostruzione di altre tipologie di classi è dovuto anche a fenomeni di massificazione televisiva e così via ma la scomparsa delle classi sociali ha creato una situazione in cui mentre le classi erano definite conflittuali ma erano perfettamente rappresentate anche democraticamente e quindi chi vinceva decideva cosa fare oggi nella situazione in cui stiamo non si vince e nessuno ha la capacità di poter dire faccio una cosa per poterla fare per gestire quello che tu pensi perché sono continue continue mediazioni non avendo il potere per evitare le mediazioni ma è vero che i governi che fanno qualcosa sono i governi che poi alla fine non sono quelli eh poltiglia dove ci sono tre lì cinque lì otto lì ci sono dei momenti in cui servono dei governi diversi forse questo impedisce anche di avere eh perlomeno che un periodo di tempo delle indicazioni corrette e definite su quello che si può fare perché tu vai in parlamento e decidi ma così non si decide niente e questo è il risultato di quella poltiglia che diceva anche Rocco dovutano soltanto a un problema eh di scomparsa di classi sono i i modelli economici che hanno portato questo perché noi ci siamo importati dei modelli eh che questi hanno portato perché non parliamo di queste cose non parliamo poi del fatto che consumiamo degli economici e così via che sono totalmente diversi una volta c'era un discorso diverso no e oggi purtroppo non è più così e lo stiamo vedendo questi giorni eh quanto è complicato poter decidere e definire le cose che possono interessare da una parte o dall'altra non sto dicendo ma nell'alternanza corretta democratica è bene che ci siano televisioni chiare e che si possano eh raggiungere la cosa peggiore di una democrazia è la poltiglia perché alla fine alla fine non decide più nessuno e quando e quando poi decide a livello di elezione eh viene massificato a punto di vista rappresentativo o meno perché poi Rocco ne sa qualcosa i social dettano legge più delle televisioni diventa problematico veramente un grosso problema poter avere eh delle visioni corrette eh di chi siamo e di chi vogliamo rappresentare e dove vogliamo andare purtroppo è così e quindi ci dobbiamo accontentare alla fine di avere non il rosso e il bianco e il grigio ma di avere il rosa il verde sfumato e così via perché poi alla fine abbiamo i rosa e non più i colori o abbiamo i verdi sfumati o i bianchi sfumati tutto qua questa è la mia idea eh la crisi delle ideologie è quello io mi riferisco anche alla mancanza di coraggio da parte della sinistra comunque ehm al di là di questo periodo difficile ma non c'è la statura in quelli del sinistro comunque che erano proprio della schiena per la semplice paura di perdere il consenso perché quello è corretto ma una cosa una cosa importante Pina è che non è un problema di avere delle idee su come deve cambiare la società perché questa è soltanto utopia se non si può realizzare il problema non è avere le idee di dire voglio quello e di poterlo fare se non puoi fare una cosa se non puoi fare una cosa è inutile che pretendi delle visioni di tipo eh bene io per una per dieci anni sto non sto al potere non è possibile tu devi poter poter pensare che vorresti quello ma non puoi farlo e devi mediare perché la politica è questa anche arte di mediazione devi costantemente mediare fra quello che vorresti e quello che puoi fare effettivamente perché poi la realizzazione delle cose progettualità sciogliono anni per portare un sistema da un punto a un altro anni e i progetti sono quelli che dicono io vorrei questo e faccio l'impossibile per averlo avendo la forza per farlo perché altrimenti è aria fritta è aria fritta e allora vanno bene vanno bene l'ideologia vanno bene ma bisogna fare pian piano purtroppo in questo sistema a mio avviso è bisogna gradualmente spostare i termini evitando di tornare indietro gradualmente perché passo dopo passo fanno queste cose perché i sistemi non vedo soltanto i nostri ma a livello generico mondiale chi decide rapidamente sono le dittature poi alla fine no e gli altri no gli altri si trovano come diceva antonio la crisi dell'ideologia ha portato anche questo la silo salabini sulla sulle classi sociali l'ha scritto tanto ma sono scomparse mi diceva una volta un mio grande insegnante di organizzazioni di strategie diceva guardate ma me lo diceva 15 20 anni fa accadrà che con questi modelli alla fine avremo eh la scomparsa della classe media e avremo avremo una distanziamento fra eh chi sta su chi sta molto avanti chi sta molto indietro e via via che procede questo questo modello tenderà a far scomparire la classe media una volta la classe media la classe era la classe era la classe dominante eh non ci dimentichiamo quando si parlava di borghesia o altre cose adesso non so più neanche che significa vabbè tutto qui Susi non ti chiedo non ti chiedo un tuo commento che sei molto esperta ho studi esperta di queste cose perché lavorando in un mondo come quello della finanza anche nel negli ambiti sociali sa perfettamente che significa oggi cambiare i paradigmi delle cose insomma vabbè però è bello constatare il fatto che appunto poi uno almeno molto spesso a me capitava e insomma lo faccio a chiusura no? Capitava di essere un po' accusato anche all'università di di star studiando un qualcosa di astratto no? Anzi con lettere potevi fare il professore quindi senza proprio già c'avevi lo stipendio fatto e invece poi io vedo che ogni volta che ehm la discussione insomma muove da 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 romanzo a fresco di Italo Calvino poi arriva invece su delle problematiche di un pratico eh spaventoso quindi in realtà c'è una bella dimostrazione di come poi questi discorsi ci portino comunque a qualcosa che ha a che fare con noi e con la società e quindi abbiano poi effettivamente delle ricadute danno un senso a quello che dicevamo su quello che è stato il ruolo della letteratura eh a livello poi mondiale insomma noi ci occupiamo di di un misero misero insomma un pezzetto molto piccolo rispetto al globo ma eh ecco insomma vedere come poi le ricadute siano effettive no? Cioè siano concrete non stiamo parlando di altri sistemi speculativi da questi andiamo poi nel pratico quindi questa è una cosa che a me fa sempre molto piacere insomma eh eh allungare la lezione di venti minuti perché c'è una registrazione di venti minuti perché comunque c'è stata un'urgenza di dibattito è una cosa che ma sai che mi viene in testa che potremmo fare una veramente delle riunioni eh con un filo conduttore unico su cui eh Maria ha paura di questa proposta su cui la riunione su cui la riunione diventa no anzi no su cui la riunione diventa diventa un dibattito su un argomento cioè un dibattito su un argomento come facevi tu quando facevi le lezioni anche in presenza alla fine facevi domande e lasciavi dei compiti no? E facevi degli esami mi ricordo che facevi anche ecco una cosa di questo tipo eh che dal punto di vista della della data è molto coinvolgente perché se tu cominci a fare domande e pretendi un esame e così via eh la gente si deve impegnare non sta piatta piatta no no ma poi è necessario portano la giustificazione che non hanno fatti i compiti no però secondo me invece è necessario anche per il fatto che comunque già il filtro dello schermo rende un po' più passivo che ascolta quindi poi portarsi dentro ai discorsi facendo parlare facendo venire voglia di interloquire in un certo senso la rende meno pesante no? Rispetto all'assenza di un contatto perché è facile essere passivo quando uno poi non sa parlare fa certe belle dormire pure in presenza ma dietro schermo è molto semplice addormentarsi quindi invece riuscire a a far intervenire alla gente bene allora scusate queste digressioni ma possiamo anche chiudere qui se se non ci sono altre osservazioni grazie a tutti così io comunque lo teniamo presente questa possibilità Rocco che ci lancia degli spunti di riflessione vedremo grazie va benissimo allora grazie a tutti della partecipazione così sentita